In questa puntata di Unicam News, grande successo per il career day Unicam realizzato in collaborazione con Confindustria Macerata. Ad Unicam i seminari su anticorruzione e trasparenza voluti dalla direzione generale. Oltre 300 studenti delle scuole superiori ad Unicam per il seminario su scienza e fumetti. Buonasera e bentrovati a tutti voi a questa nuova puntata di Unicam News. Questi i titoli li abbiamo sentiti ma vediamo subito il primo servizio. 84 aziende presenti, 850 studenti e giovani laureati e 17 workshop e seminari. Sono questi i numeri del career day 2019 che l'Università di Camerino e Confindustria Macerata hanno organizzato lo scorso 4 aprile a Borgo Lanciano, al Lanciano Forum. I partecipanti hanno avuto l'opportunità di incontrare le imprese, conoscere i responsabili delle risorse umane, sostenere colloqui conoscitivi, lasciare il proprio curriculum e scoprire nuove opportunità di lavoro. Tutti al completo per numero di partecipanti e anche i numerosi workshop in cui sono state trattate tematiche come competenze vincenti per il futuro, Internet of Everything, arte, scienza e soft skills. Come lo scorso anno o poi, una parte del programma è stata dedicata all'imprenditorialità femminile. Spunti interessanti sono arrivati dal seminario coordinato e moderato dalla giornalista del TGR Marche, Francesca Alfonsi, al quale hanno partecipato Valeria Mancinelli, sindaco di Ancona, ed eletta miglior sindaco del mondo 2018, e Francesca Petrini dell'Oleificio Petrini. Siamo qua per offrire ai nostri studenti un'opportunità e un servizio ulteriore. Grazie all'incontro con le imprese, grazie all'incontro con il territorio, loro avranno la possibilità di vedere quali opportunità lavorative avranno nel futuro. 14 seminari, 84 aziende, più di 850 studenti, questi sono i grandi numeri della giornata di oggi, significa che è una giornata molto desiderata e molto richiesta dai nostri studenti. Tutto ciò è stato possibile grazie alla grandissima collaborazione della piccola Confindustria Macerata, ma soprattutto delle 84 aziende che hanno deciso di fare questo cammino con noi. Ma cerchiamo di fare queste giornate proprio per essere il più possibile a contatto e di volta in volta mirare e stilare un programma secondo le necessità del momento, che non sono fisse nell'arco dell'anno, magari da anno in anno cambiano e le giornate quindi cambiano le tematiche, i workshop che vengono organizzati. Le medie aziende e le grandi, quelle più strutturate, hanno dei rapporti diretti con le università e hanno questo scambio di informazioni che è proficuo per tutte e due le entità. L'università e le imprese hanno cominciato a lavorare, a interloquire fra di loro negli anni. Io sono parecchi anni che mi occupo di rapporti con le imprese e quindi anche dell'organizzazione del Career Day. Prima diciamo che ci consideravano come università un po' distante dalle aziende e quindi arroccati, non colle, distanti da loro, non conformi anche alle loro esigenze. Poi quando noi invece siamo avvicinati a loro, siamo andati a contattarli, hanno capito che la collaborazione tra loro e noi era importante sia per loro sia per noi. Perché per loro? Perché per loro aumentava la tecnologia, cioè noi eravamo supporter per loro per farli adeguare al mondo che cambia, cambia velocemente. E loro per noi perché ci davano anche delle indicazioni su come poi costruire i nostri corsi di laurea in modo tale che i ragazzi appena approcciavano al mondo del lavoro potevano essere utili a loro. Il rapporto tra l'università e l'impresa è un rapporto fondamentale. È un rapporto fondamentale per quanto riguarda la ricerca, ma è un rapporto fondamentale anche per quanto riguarda il mondo del lavoro. Quindi il Career Day di oggi si inquadra in un servizio che l'Ateneo sta portando avanti a livello globale. È un career service appunto che si propone proprio di mettere in contatto non solo oggi ma tutto l'anno il mondo delle aziende con il mondo degli studenti, dei laureati, dei dottori di ricerca per creare delle opportunità di occupazione che poi chiaramente saranno quelle che veramente possono favorire lo sviluppo di questo territorio. Territorio che soprattutto ora ha bisogno di un forte sviluppo e ha bisogno di un supporto da parte dell'università come motore. La differenza nel placement la fanno eventi come quello di oggi ma anche eventi che organizziamo tutto l'anno in cui da una parte le aziende possono incontrare gli studenti e gli studenti possono incontrare le aziende e tutti e due hanno una domanda e tutti e due hanno una offerta. E la fanno poi anche eventi seminariali e formativi come quelli di oggi in cui insegneremo agli studenti a promuovere i propri curriculum, a promuovere le proprie competenze e ad approcciarsi proprio al mondo del lavoro in maniera consapevole e in maniera etica. Oggi siamo qui a Care Day perché è uno dei modi attraverso i quali gli studenti conoscono le imprese e le imprese conoscono gli studenti. Ma la cosa importante che si può notare è che l'anno scorso e quest'anno abbiamo potenziato il numero degli studenti già qualcuno ha trovato lavoro direttamente, quindi l'impresa trova anche un bacino fertile di soggetti che normalmente rischierebbero di non incontrarli. E quindi in un'occasione che può essere festosa ma che consiste in un grande sforzo organizzativo nostro come vedete ci sono 80 o più di 80 imprese che cercano di trovare talenti, trovare giovani che possono dargli una mano per il loro sviluppo nel territorio. Grande successo per il ciclo di seminari su anticorruzione e trasparenza voluto dalla direzione generale di Unicam e tenuto nei mesi scorsi dal dottor Vincenzo Tedesco che ha visto la numerosa partecipazione non solo di personale Unicam ma anche di altri enti ed istituzioni. Abbiamo incontrato il dottor Vincenzo Tedesco, direttore generale di Unicam. Volevamo capire come il pubblico, sia i colleghi dell'amministrazione che il personale esterno che si occupa di queste materie, di queste tematiche potesse avvicinarsi alle tematiche dell'anticorruzione e della trasparenza però collegate a quello che è lo sviluppo organizzativo cioè i processi e i procedimenti organizzativi. L'obiettivo è stato quello proprio di fare queste quattro giornate di ore ciascuno che hanno visto soprattutto la partecipazione di circa 140 persone divise tra dipendenti, personali ma anche studenti. L'obiettivo è stato chiaramente raggiunto, ringrazio anche per questo quello che è stato il contributo della scuola di giurisprudenza a partire anche dal personale amministrativo che ci ha supportato. L'altro elemento è quello di pensare, adesso vediamo per l'autunno, ad una, più che una riproposizione, ad un ciclo di seminari che possono essere d'aiuto ed evitare soprattutto quelle classiche attività che fanno le pubbliche amministrazioni, le classiche giornate della trasparenza in cui uno lo fa perché lo prevede la legge. Noi andiamo oltre quello che prevede la legge, noi diciamo che la trasparenza è un modo di pensare e la prevenzione della corruzione è un modo di essere. Il rettore nel suo ricordo, nel suo discorso di insegnamento, nel suo programma ha un capitolo dedicato proprio alla prevenzione della corruzione e della trasparenza. Quindi noi sentiamo questo tipo di attività, questo tipo di azione, come un'azione che è connaturata al nostro modo di essere. Oltre 300 studenti hanno partecipato all'incontro sul tema scienza e fumetti, promosso dal sistema museale di Ateneo per parlare di scienza, allacciandosi ai poteri dei supereroi di fumetti ideati da Stan Lee, scomparso pochi mesi fa e di cui i personaggi ancora oggi affascinano le nuove generazioni con sorprendente continuità. I relatori, attraverso le loro specifiche competenze, hanno trattato del rapporto tra scienza e fumetti, connubio capace di aprire orizzonti in grado di stimolare i giovani, appassionati e non, ad avvicinarsi al mondo della ricerca e delle scienze applicate, che rendono oggi possibili molte delle straordinarie capacità dei supereroi Marvel. Il rettore Pettinari ha raccontato i superpoteri della chimica attraverso esperimenti effettuati dal vivo, mentre il direttore della Scuola di Scienze e Tecnologie, Davide Vitali, ha illustrato le onde gravitazionali e dei misteri del cosmo. Sono intervenuti anche Alessandro Blasetti, responsabile dello staff del Polo Museale di Unicam, e Renato Franchi, Product Manager della Panini Comics, che attualmente edita i fumetti Marvel in Italia. Bene, io mi fermo qui per questa puntata è tutto. Vi ricordo che tutte le informazioni sull'Università di Camerino sono disponibili sul sito www.unicam.it. A tutti voi, grazie per essere stati con noi e buona serata.